Assolutamente di far basta perché le tasse ce le fanno pagare come quelli che abitano in centro. Abito qui dal 2000 e quando sono venuta ad abitare qui c'erano dei progetti di sanamento della strada, di costruzione della rete fognaria eccetera. Siamo arrivati ad oggi nel 2018 che ancora questa risanazione della zona non è stata fatta, quando invece sono state costruite altre case dove immediatamente è stato fatto sia l'asfaltatura delle strade che la rete fognaria. Quindi noi abbiamo praticamente formato un comitato, il comitato di Via Matteo Ricci che si è costituito per denunciare lo stato di degrado della via e del quartiere che da decenni non ha risposte sulle opere e servizi che dovevano essere effettuati per il normale vivere del quartiere. Quartiere è sorto alla fine degli anni 90 e inizio 2000 con una strada di progettazione via Matteo Ricci che le amministrazioni che si sono via via susseguite alla guida della città pur avendo effettuato i progetti, i piani parcellari di esproprio bonario comunicato all'esproprio proprietario delle aree in oggetto inseriti nei piani triennali di sviluppo e bilanci del comune, la realizzazione della strada non è mai stata eseguita. L'opera che avrebbe permesso di usufruire dei parcheggi, camminamenti pedonali, pista ciclabile realizzati dalla società edilizia stessa realizzatrice dei fabbricati. Opera che avrebbe collegato la zona di espansione con via Tombaccia facendo fruire con immediatezza la piccola chiesa e i giardini, sia alle persone anziane che ai bambini. Con il presente comunicato e con la riunione pubblica che si terrà il giorno 19 febbraio 2018 a cui tutte le forze politiche sono state invitate, compresa l'amministrazione comunale, si vuole con forza far presente che oltre ai doveri i cittadini residenti hanno anche dei diritti costituzionalmente sanciti che faranno eventualmente valere in tutte le sedi dove si avranno risposte certe e immediate che fino ad oggi non siamo riusciti ad ottenere dal nostro comune. Quindi invece di sperperare soldi per chiudere una buca ogni tanto sarebbe il caso che il comune, visto e considerato che ha il progetto da anni, che ha avuto i fondi e che deve provvedere alla manutenzione delle sue strade, provvedesse a far sì che anche questa strada diventi tale e che non rimanga una mulattiera. Grazie.